lo stadio e soprattutto è sceso Buonasera, per le domande al mister, nome e cognome c'è stata, grazie. Buonasera mister, un buon primo tempo, sicuramente migliore della ripresa, però forse la cosa più importante è stata la prestazione dei tuoi giocatori che hanno dimostrato di essere con il suo allenatore in un periodo naturalmente anche di chiacchiere. Sì ma se le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, sicuramente quando sei ultimo in classifica e escano certi discorsi è normale che magari uno si possa fare delle riflessioni, possa giudicare l'operato dell'allenatore, credo sia nella norma. Sicuramente qualche problematica con le tante assenze, oggi sette giocatori per una squadra come la Spal, sei giocatori per infortunio e uno per squalifica, a venire a giocare su un campo del genere, una squadra forte come la Roma, con grande qualità e fare questo tipo di prestazione, è la dimostrazione che i ragazzi hanno la possibilità, abbiamo la possibilità di uscire da questa situazione, sicuramente bisogna invertire un po' quelle che sono non tanto le prestazioni, ma negli episodi che sicuramente poi ci costano la partita. Oggi secondo me abbiamo fatto un bel primo tempo limitando tanto quelle che sono le potenzialità della Roma, abbiamo fatto due o tre situazioni importanti per far il gol, poi l'abbiamo fatto sul rigore, avevamo retto bene l'urto del loro valore, nel secondo tempo loro sono partiti in maniera ancora più determinata, erano sotto e purtroppo quell'episodio dell'autogol anche a livello morale è inciso un po'. Poi purtroppo abbiamo ammesso anche l'errore in quella situazione del rigore, quelle sono delle ingenuità che alla fine ti costano le gare, specialmente con squadre che hanno un altro tipo di valore, però ecco come dicevi te la squadra ha dimostrato di tenere il campo, di giocarsela, di andare a aggredire quando c'era da aggredire, di giocare la palla, specialmente anche nel secondo tempo dopo il 2-1, abbiamo provato anche a reagire a questa situazione, purtroppo non ci siamo riusciti, però credo che solo giocando in questa maniera, attraverso questo tipo di prestazioni, cercando di elevare qualche errore, possiamo uscire da questa situazione di classifica. Buonasera, Giorgio Marota, Corriere dello Sport. Si era parlato in questi giorni di una partita decisiva per salvare la panchina, lei ha parlato di chiacchiere, quindi volevo capire se in questi minuti ha avuto la conferma da parte della società che si va avanti con lei. No, no, io non ho avuto conferma di niente, io fino a prova contraria rimango allenatore della SPAL, poi queste cose lo sapete, non le decide l'allenatore, l'allenatore è come il cornuto, è quello che lo sa ultimo, ma diventa da questo, io sono convinto con il mio staff, con i miei ragazzi, nonostante alcuni episodi negativi, alcune assenze importanti, l'esordio anche oggi di un ragazzo del 2001, i rigori sbagliati, gli autogol, di poter, nonostante tutto, poter uscire da questa situazione. Questa è la mia convinzione, la convinzione dei ragazzi che alleno, oggi l'hanno dimostrato, nonostante la sconfitta contro una grande squadra, e quindi io percorro quella è la mia strada, poi altre decisioni non sta a me prenderle. La seconda parte della domanda era dal punto di vista tecnico, invece, al di là degli episodi, secondo lei che cosa è mancato nel secondo tempo alla squadra? Sicuramente, non voglio parlare di fortuna e sfortuna perché ci redo poco, però la situazione del rigore è stata sicuramente una situazione dove un giocatore girato di spalle deve cercare di non intervenire, se interviene in quella maniera rischia di fare rigore, quindi, poi se gli dai questi tipi di vantaggi a una squadra come la Roma, dopo diventa difficile ribaltare la situazione, anche se noi, secondo me, in alcuni frangenti ci eravamo anche riusciti, reando dei pericoli, però, insomma, quando hai la forza, la bravura di passare in vantaggio in un campo difficile come Roma, devi essere più scaltro, più furbo, più attento per cercare di portare a casa dei punti che per noi, in questo momento, sarebbero stati determinanti. Avete altre domande? Buona serata, buon Natale a tutti. Grazie.